Dopo tante richieste che abbiamo fatto sia al signor sindaco di Trapani sia all'azienda e dopo ripetute negazioni che ci hanno obbligato a fare questo passaggio, notiamo che giornalmente vengono fatte dei proclami che non hanno a che vedere con la tutela dei lavoratori. Perché parliamo di un'azienda pubblica e che quindi dovrebbe tutelare maggiormente anche i lavoratori che evidentemente non riusciamo ad essere incisivi in questa azienda Trapani Servizi dopo che abbiamo visto anche i proclami dell'amministratore unico Geometra Carta, dove dice che è un'azienda virtuosa, dove dice che finalmente quest'anno il bilancio è positivo e quindi però si dipendica di dire che i mezzi sono faticenti e tutto il resto in questa azienda che non va. Noi da molto, come ha detto il collega, abbiamo chiesto questo tavolo, avevamo anche chiesto da parecchio il discorso del contraratto integrativo che i sacrifici che stanno facendo i lavoratori non vengono ripagati per niente e non possiamo accettare questa strumentalizzazione che il Consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato fa continuamente e quotidianamente con i suoi proclami. Noi chiediamo con urgenza e da sempre un tavolo che sia un tavolo di contrattazione vera, che possiamo risolvere i problemi perché i lavoratori ne hanno tanti dei problemi, dall'utilizzo delle potenzialità professionali che hanno, quindi una ristrutturazione dell'organizzazione del lavoro, dal fatto che adesso con i lavori che fanno usuranti hanno diverse difficoltà patologiche e quindi un impiego diverso, quindi creare nuove strutture organizzative che possano fare fronte alle esigenze che la società deve porre in atto.